Un infortunio del direttore di gara Claudio Petrella di Viterbo evita al Chieti di collezionare verosimilmente l'ottava sconfitta consecutiva. Sul neutro di Grotta Mare con il Monticelli in vantaggio 2-0, le due squadre rientrano negli spogliatoi, ma le ostrita non vengono riprese a causa di un malanno di natura muscolare che costringe il direttore di gara ad alzare bandiera bianca. Partita dunque da rigiocare da capo in una prossima data da definire. Fino ad allora la gara aveva confermato le difficoltà del Chieti e il buon momento del Monticelli reduce dal blitz inaspettato di fermo. La compagine a Scolana aveva trovato il gol prima del quarto d'ora con il tap-in di Pedalino, rete annullata per fuorigioco. Nel finale di tempo l'inutile 1-2 del Monticelli al 38esimo corner di Iotti per lo stacco vincente dell'ex Francesco Terrenzio. Due minuti dopo Iotti viene steso in area e dagli 11 metri Pedalino fa 2-0. Quindi l'epilogo già ha detto nonostante le insistenze degli stessi giocatori del Chieti che chiedevano di riprendere regolarmente il match come sottolineato dal capitano neroverde Filippo Viscido. Purtroppo l'arbitro non ha voluto continuare la partita anche se come diceva il mister io sportivamente con il capitano avversario abbiamo cercato di farla continuare perché se parliamo di sportività bisogna anche parlare di cose anche se non era una cosa positiva per noi però era giusto continuare la partita. Purtroppo l'infortunio per l'arbitro era molto grave e ha tenuto fede a questa decisione. Probabilmente siamo talmente abituati a soffrire e fa parte del nostro DNA che le cose ce le dobbiamo proprio prendere con le mani e con i denti fino all'ultimo minuto in ogni situazione che anche una partita che si era messa nel modo migliore e che per noi era importante perché chiaramente definiva già una certa parte di classifiche e dava soprattutto continuità a questo periodo e anche questa se la vogliamo raccontare raccontiamola. Sarebbe stato bello poi se ci fosse stata la regola come nei campionati professionistici di ricominciare dal 2 a 0 almeno questo avrebbe confortato, non si capiscono come mai queste regole per certe categorie valgono e per altre no comunque è sicuramente un'ingiustizia assurda. La cosa più bella è che ripartiamo in ogni caso dal 2 a 0, ripartiamo dal portiere loro migliore in campo ripartiamo da quattro palle gol pulite e create pur con un modulo completamente diverso sul quale abbiamo lavorato solamente in questi giorni quindi da questa settimana.